Smashmallow, il bello è che non ve l'aspettavate Abbiamo organizzato giusto un paio di serate Ci siete? Ok, comincio dall'inizio Location ideale, code clef, booster sit Segnatelo in agenda, 108 via magenta A soli 8 euro, compresa la merenda Vi spiego la faccenda, i pop in un momento Il 16 marzo c'è tormento Accompagnato da Esa, funky presidente Connoco, dafti e mani armata residente Capito? Un euro, un ciupito E la prossima serata sarà meglio Ho garantito, ho chiamato DJ Ugly, DJ Tricks, Mod DMC DJ Lugi, vai te e farm beat Vi basta così? È una festa, cazzo Appuntamento fisso, quindi 23 marzo E dopo tutto questo funky su un vinile Ancora rime, con inocchio al code Il 20 aprile, la pre-serata mani armata Capito? DJ Mad, DJ Leather, Father Mosquito C'è pure il sottoscritto, Saraceno, vai sereno E il 18 maggio, niente po' di meno Che primo più squarte, Ikei Acor, Veleno E portatevi le femmine, voglio il locale pieno Grazie